L'industria 4.0 Vuol dire tantissimo, vuol dire andare a fondo all'argomentazione, vuol dire che bisogna anche dare uno spazio e dare anche delle idee come una macchina possa essere 4.0, cioè è troppo facile dire si entra solo nell'industria, no, entra anche sul cantiere ed è affascinante sapere che una gru parli il 4.0, cioè una gru che comunica, una gru che dà tutte le informazioni e una gru che io posso anche interpretare che mi dà delle risposte, come può essere manuntentata, come può lavorare, se è troppo pesante il lavoro che fa, no, deve fare il lavoro giusto. E questo è una cosa affascinante che noi con il 4.0 cerchiamo di trasmettere e di convincere i clienti, che è una cosa favolosa. Tra i numerosi ospiti d'eccezione l'onorevole Maria Elena Boschi, sottosegretario di Stato presso il Consiglio dei Ministri, ha fornito prospettive per il futuro del piano nazionale Industria 4.0. Prima di tutto va confermato il lavoro fatto con il piano Industria 4.0 fino a qui, con incentivi e agevolazioni per le imprese che hanno deciso di reinvestire nella propria azienda, investire nella ricerca, nello sviluppo, nei macchinari, facendo crescere la propria impresa ma facendo crescere anche l'economia del paese. E la prospettiva adesso è quella di puntare soprattutto sulla formazione, sulla formazione digitale all'interno delle aziende con un piano di agevolazioni fiscali da parte del governo che abbiamo previsto nell'ultima legge di bilancio per chi investe in formazione dei propri dipendenti e con un grande fondo che si occuperà proprio di gestire la formazione digitale. Abbiamo bisogno di nuove competenze per affrontare le sfide del futuro, per essere competitivi nei mercati europei, nei mercati internazionali. Io credo che l'esperienza dell'Alto Adige e del Sud Tirol abbia sicuramente eccellenze, pensiamo soprattutto alla produzione di macchinari, e abbiamo bisogno di sostenere le nostre aziende nella sfida anche dei loro competitors a livello europeo. L'On. Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, meglio noto come MISE, ha sottolineato gli effetti positivi sull'economia italiana, analizzando gli sviluppi del Piano Nazionale Industria 4.0 e spiegando il focus che per il 2018 sarà sulla formazione di personale competente ad utilizzare le nuove tecnologie. Il Piano Industria 4.0 è stato un piano che abbiamo osservato anche per vederne gli effetti, era un piano molto impegnativo dal punto degli investimenti per il Paese, ma dall'analisi del dato del 2017 abbiamo visto che gli imprenditori hanno colto la sfida del Piano Industria 4.0, cioè quello di far ripartire gli investimenti per riqualificare tecnologicamente le loro imprese, e quindi abbiamo capito che valeva la pena di proseguire, tant'è che nella legge di bilancio del 2018 ci sono stati nuovi stanziamenti per il superammortamento e per l'iperammortamento, però devo dire che c'è una novità, nel senso che c'è stato un maggiore focus ancora di più dell'anno precedente sulla formazione e quindi sul capitale umano, perché naturalmente è fondamentale che le nostre imprese utilizzino nuove tecnologie, ma è anche molto importante fare in modo che le persone del nostro Paese siano in grado di utilizzare quelle tecnologie, quindi non soltanto un accento sugli aspetti tecnologici, ma anche un accento sugli aspetti legati alla competenza. Il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Firpo, nel capoluogo alto tesino su invito di Confartigianato Imprese Bolzano, ha evidenziato che in tema di Industria 4.0 emergono numerosi fattori positivi con importanti successi. Ha confermato che lo Stato continuerà anche nel 2018 l'offerta di notevoli vantaggi fiscali per l'acquisto delle ultime tecnologie sviluppate in base ai criteri dell'Industria 4.0. Parole di elogio da parte dei vertici della provincia di Bolzano, nella persona del Presidente Arno Compaccer. Noi come Giunta Provinciale ci siamo posti l'obiettivo in questa legislatura di sostenere ancora di più le nostre imprese, dando luogo a sgravi fiscali per poterle rendere più competitive, ma queste misure adesso statali si aggiungono a queste misure locali e soprattutto danno una spinta verso una maggiore digitalizzazione delle imprese che è importante proprio in un mercato che è una cerniera tra il nord e il sud d'Europa. Il successo dell'iniziativa al Noi Tech Park è stato confermato dall'interesse del pubblico nel porre le domande sulle tematiche fiscali, economiche e finanziarie. In sala c'erano infatti numerosi imprenditori, ma anche consulenti fiscali e finanziari. Industria 4.0 è stato uno dei lavori più importanti di questa legislatura, soprattutto nella Commissione Attività Produttive, dove l'abbiamo seguita insieme al Ministro Calenda. È stata un'iniziativa sia italiana, ma soprattutto anche in coordinazione con altri paesi europei, come per esempio la Germania, con la quale abbiamo anche avuto un grande scambio proprio di informazioni. Gli effetti li si vedono già oggi. Naturalmente saranno ancora più reali, più concreti nei prossimi anni, però è un inizio di una filosofia anche di investimenti innovativi che oggi deve partire, ma che porterà ai risultati soprattutto nei prossimi anni. Sarà un cambio di passo proprio per le nostre piccole imprese che andranno a aprire anche nuovi mondi. La tecnologia aumenterà, la tecnologia sarà sempre più sofisticata e su questo noi vogliamo anche investire. Nell'area esterna del Noi Tech Park, l'esposizione di macchinari edili di ultima generazione che rispecchiano i concetti di Industria 4.0. La direzione della Niederstetter SPI è convinta che i tanti vantaggi della interconnessione delle macchine in una modalità di lavoro sicura ed efficiente fanno sì che le imprese che investono nell'industria 4.0 saranno quelle che possono affermarsi sul mercato.